Domani al Civitelle arriva l'Avezzano. L'Olimpio agnonese, riduce dal derby giocato nel capoluogo, è riuscita a conquistare un punto allo scadere grazie al rigore realizzato da De Stefano. Anche gli ospiti sono riduci da un pareggio in casa contro la Sangiostese. La compagine abruzzese, con 39 punti, è in zona play-off. Situazione opposta invece per i Granata, che con 16 punti in meno, 23 in totale, sono nella zona calda della graduatoria, sempre attenti a non fare passi falsi. L'Avezzano scenderà in Molise con la voglia di non interrompere la striscia positiva. I biancoverdi, infatti, non conoscono sconfitta dal lontano 17 dicembre, ultima gara del girone di andata. Dopodiché una serie di risultati utili e consecutivi che hanno portato l'Avezzano in zona promozione. All'andata in terra abruzzese la gara terminò 2-1 per i padroni di casa. Per l'Agnonese, al contrario, l'ultima vittoria riguarda la gara contro il Fabriano del 14 gennaio. Domani Granata dovrà non mettercela tutta per fare il risultato e cercare di conquistare punti fondamentali in ottica salvezza. Molto importante è sicuramente il fattore campo, una spinta in più per una squadra che esprime il suo miglior gioco proprio tra le muramiche con il supporto dei propri tifosi. L'undici anti-Avezzano potrebbe essere il seguente. Importa Venturini, difesa composta da Corbo, Litterio, Rullo e Frabotta. Al centro del campo di Lollo, Corso e Niang in avanti potrebbe partire dal primo minuto de Stefano con Giglio e Ferraro. A dirigere l'incontro è stato disegnato il signor Augusto Quattrociocchi della sezione di Latina assistito da Simone Conte di Napoli e Alessandro Ruocco di Ercolano.